Prima volta che vedo LOL Incredibile Un po' come quando vedi la Madonna per la prima volta E' stato nascosto per tutto questo tempo Comunque, Volibert Crit Allora E' Volibert Crit ma non vedo perché non startare con questo oggetto Mi sembra comunque il migliore Tutto bene, Ig E Io direi che andremo con il Navori sicuramente Poi potrebbe essere interessante l'Essence River, boh Fammi vedere Oggetti che danno Crit Fanno tutti un po' cagare sinceramente Phantom Dancer, però non abbiamo AD così Cioè abbiamo due oggetti Ci danno un quadrilliardo di Attack Speed ma non abbiamo AD Quindi i nostri Crit farebbero molto poco danno Servirebbe un Infinity Edge qua in mezzo Vediamo 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 ragazzi Una Builder da Deus che shotta di VW? Ma non puoi, non fa tutti sti danni Ma neanche per sbaglio Che poi io non so ancora La W di Volibert Applica gli effetti un hit Può Critare Altrimenti di cosa stiamo parlando Su ADC si gioca Infinity First Ok Spoiler Volibert non è un ADC Ah lo scopriamo solo vivendo Ah sì? Ma io non penso proprio Ma non penso proprio Cosa? Benissimo Ok Grazie Questo lo posso leggere anch'io Voglio sapere se Se può Critare la Spell però Voglio sapere cosa fa la Spell Ok Fatto apposta Fado più sul carretto Che c'aveva il Il marchio Che c'aveva il Ok Parto con tutta l'Attack Speed? Perché no? Non ok Sembrava quasi che sapesse Quello che stava facendo Cioè mi teneva A distanza perfetta Non era meglio le scarpe Non posso comprarle Le ho qua Ah ecco Comunque Chris Master Se scoppio che la W Non critica Che non funziona Al pick Sei licenziato Sappilo Perché me l'hai chiesto te Non sarei più Il portavoce Dei pick Quindi sarà meglio per te Che funzioni Benissimo Carretto morto di morte Come sempre Però tutto sommato C'è anche se ho più Non critica Non è un grosso problema Però A quel punto Come fai a fare One shot Come Darius Se non critica Tu vuoi Voliber che Shot Le W Come Darius Ma La W Di Dario Scritta A contraria Di quella Di Voliber Boom 38 mesi Però applica Il press di attack Quindi buono Prendi un po' Di attacchi Dai minion Visto che ti piace tanto Motoporco Come stai Bello Grazie al sub Vorrei Coprire un po' Di vita Quasi Se avessi aspettato Il carretto Che moriva Che avevo la ultima Eh vabbè Direi Abbastanza Comprensibile Il mio campione È fatto Per Deivare Stai sotto Torre Senza vita Diciamo Questo è uno Scenario Molto plausibile Sì Aveva la possibilità Di scappare E invece Peccato che di poco Non prendo la Psss L'oggetto Però no dai Devo andare back qua Non posso Rimandare Ok La Q Crit per un attacco W Critta Non critta Sono animazioni Crit Cosmetica Ah ok Spicy Vabbè E comunque La cosa bella È che la W Applica Il press Di attacca Di conseguenza Faccio Q Out Attacco W E parte Il press Di attacca Che non è niente male Forse a onore del vero Poteva essere meglio Il conqueror Però Va bene Ok Gianpietro Passando il fucile E lui Tunk Tink Tunk Non penso Proprio Porca puttana Sta movement speed Che non la raggiungo Quando cazzo Arrivano ste scarpe Minchia Tra tre minuti e mezzo Arrivano Ma niente Non la prendo Le scarpe Bocciate Ragazzi Vabbè Ma come non ho preso l'assist Dai ma quanto tempo era passato Vabbè Abbiamo un po' di movement speed Adesso Però Guardate JB non sono Straveloci In più Io voglio sapere una cosa Ma perché i minion Sono così veloci Una volta non erano così veloci Una volta erano molto più lenti Cioè ora ti outspeedano Praticamente sempre Grazie Bruno Per i nuovi mesi Bentornato Ora un buon momento Per ingaggiare Ok Che schifo Sto oggetto Amma mia Bello Alla ammiazione Il crit Però Non è la cano Non vuoi Valor Allora La shottiamo un attimo Ok Back W W maxata Io direi Andiamo di infinity edge Perché ci servono un po' di danni Non ne abbiamo attualmente Cioè i nostri autoattacchi Fanno schifo ragazzi Fanno veramente vomitare Sapete che stavo pensando Di farmi l'essence Non perché Mi serve effettivamente Il mana Un po' si Però perché Da un sacco di stat C'è anche il 25 Di abilità Ability edge È ottimo Forse addirittura Meglio di infinity edge Sapete Questo mi sa che è meglio Perché al diare di mana Ci dà abilità Che non ne abbiamo Così usiamo la w Più spesso Ci rifulliamo Secondo me è più forte Poi dà un sacco di stats Sto oggetto L'hanno super baffato Perché la passiva Fa cagare In confronto a quella vecchia Bene La ulti non c'è Sei main top Io sono main top Tutto Che voliber sarebbe Voliber for crit E rtusse Paride Paride coccio Grazie al prime Benvenuto in famiglia Carissimo Benvenuto Forte di stats Ma passiva uno schifo Vabbè ma chi se ne frega Finché forte Finché ha comunque Un punto forte A noi non interessa Che la passiva Faccia cagare Non è per la passiva Che lo prendiamo Capito Molto bene Cioè comunque c'è 70 di ad Che sono 10 meno Degli infinity edge Cioè 10 meno è poco Capito Tantissimi 70 di ad In più ci da ability 25 che è tanto In più ci da mana Infinito Che Oh Puttalo un po' via E in più Ci da 25 No 25 E in più costa 300 gold in meno Costa addirittura Vedi Cioè io posso andare back Adesso e questo lo compro Infinity edge Mi servono altri soldi Capito Quindi Secondo me ci sta No no Il mana lo dà E che fa cagare la passiva Cioè adesso ti dà Un pochino di mana Ogni auto attacco Cioè prima Lo spell bleed Era molto più forte Capito Collector goloso Ci serve il collè Io penso di andare Phantom dance In realtà Si può fare Vediamo un po' come va Qui Vedete la cosa buona Che mi rifullo di mana Ogni auto attacco Mi ridà mana Un po' un cesso Però Importante averci mana Secondo me l'infinity Ah l'infinity edge È più forte Il collector Volley please Volley bro Please go tame Perché Volleyber va come cazzo Gli pare Zitta Vabbè Non importa Non lo volevo davvero Ok Guarda che pizza Tu Tu L'ho visto L'ho visto Beh E' Ertussi CIR Dx 104 Do per scontato Che il pick Che avevo chiesto È già stato giocato Guarda Ertussi Con il fatto È che manco Me lo ricordo Sì Sono abbastanza Convinto Grazie comunque Dei pizza È stato giocato Mille anni fa Anche perché Eri scomparso Cioè Sembra quasi Che tu lavori Capito Cioè Scompari così Vai via un mese Non ti presenti Cioè Che fai Lavori nella vita Per permetterti Di andartene Quando vuoi Proverete Ce lo metti Ma devo dire Che la W Già È buona Ok Aiuto Aiuto Scherzavo Gnam Ma sì Settimane Mesi Cioè È la società Che tiene traccia Del tempo Il mondo Non aspetta Nessuno Phantom Dancer Perché siamo Pazzi Se messi in ferie Per tradonarti Grazie Artubus Vedi Il lavoro È quasi importante Quanto la mia live Ricordatelo Ti Tu Tu Ti Tu Faccio comunque Poco danno Però fa ridere Vedere che attacco Così velocemente E che corro Così velocemente E ancora Non ho chiuso le scarpe 440 Moment speed Turbo orso Sono il turbo orso Niente Hanno sorrendato 15 minuti Motherfucker Gwen Capisco Non ho visto Nessuno Warwick Con lo scappo L'orso è sempre divertente Grazie Panino al salame Per questi 40 mesi Bentornato Panino Bentornato Eeeh Miche è schifo Ragazzi Robote Proprio non ha giocato Mille danni Ok No Lezzuettore Non puoi crittare Vabbè È stato molto turbo Questo orso Comunque Tre oggetti Abbiamo completate In 15 minuti Vuol dire che Noi stavamo andando Particolarmente Bene